io sono rocco e oggi sono con il mio amico ario eccoci qua pronti a giocare a tabannusi eccoci qua va bene direi di cominciare a partire in senso inverso in situa a piazzare a piazzare questo a piazzare un edificio un edificio direttamente quindi un edificio devi riguardare queste cose riguardare magari il tuo obiettivo sì sì ho presente tutti e due e quindi ci ragiono molto bene perché perché la situa è interessante molto se io prendo qui posso prendere una risorsa qualsiasi una risorsa qualsiasi che sarà che sarà una risorsa bianca rubo il 6 bianco ma questa ah in realtà quando c'è quel simbolo è quella che devi prendere da fuori allora no a meno che non ci sia il simbolo è questo il simbolo che ti può prendere da dentro allora mannaggia volevi proprio un bianco volevo un bianco lo metterò qua ok direi ottimo io invece e vai no metti gli scherzo metti la casa e non prendo però loro in realtà l'abbiamo già prese tappo certo e io invece metterei un bianco qua che fa prendere un progetto dello stesso colore quindi un progetto bianco che io potrei mettere già così dice tutta la riafferenza della vita metterei in bianco dice di prendere quello col valore più alto e se non si si non lo so se non vado errato boh siamo pronti siamo pronti quindi comincia pure quello fa così ha qualche dubbio allora allora inizio da questa regione vediamo potrebbe essere interessante innanzitutto costruire costruire però la vedo difficile molto difficile se io prendo per esempio vorrei andare subito sul 4 allora prendo il 4 risorsa bianca quindi sposto il mio architetto nella regione 4 diciamo così ok ma questo lo puoi mettere qui anche se è adiacente a una già costruita ma non ne metterlo per forza ortogonale guarda so che a volte facciamo delle gabole quindi magari andiamo a vedere è possibile solo se si possono aspettare tutti i requisiti di chiazzamento progetto quindi questo non si può fare però in realtà è poi impossibile estendere naturalmente però andrei per un altro bianco dai e andrei qua così per prendere una tessera acqua va bene detto questo ritorniamo lì potrei costruire fare un altro di quel colore no invece potrei prendere come prima azione un progetto quindi non so prendo un bianco e estendo questo progetto bianco qua no quindi vado a mettere un dischetto e vado a prendere una risorsa blu in questo caso abbiamo 3 e 2 meraviglioso quindi prenderò questo sono dei disturbi? no lo hai fatto un attimo allora questa era la prima cosa seconda cosa potrei andare a costruire però per costruire devo pagare 2 bianchi della regione più altri 2 bianchi perché ci sono 2 progetti biani quindi questa roba qui è un po' costosa è un po' costosa secondo me potrei fare una roba tipo spendere una risorsa blu mettiamo degli scatti qua per esempio ok prendo faccio questo la D prendo una risorsa blu per prendermi una tessera acqua e risorse verdi naturalmente non ne ho potrei pagare naturalmente dell'oro ma in questo caso potrei farlo spendo tipo un oro come risorsa verde per prendermi un giardino dopodichè posso mettere giù l'acqua che voglio partendo per esempio da qui potrei fare 1 e 2 dopodichè posso mettere fino a 3 giardini direi che metto questo qua in questo modo e ci butto giù il dischetto boh e probabilmente ha fatto l'azione B e l'azione D e il mio assistente si muove qua perfetto io comincerò da qui intanto si probabilmente parlavamo proprio di te come disturbo allora io potrei lui è il disturbo per antonomasia potrei cosa voglio fare perché c'è il problema che vado nel 3 vado nel 3 dopodichè qui faccio costruzione di un progetto costruisco un giallo e lo metto qua così prendo un altro progetto giusto? si in quel caso è buono il piazzamento perché così te lo fai stendere direttamente si anche se in realtà voglio provare una cosa diversa ho già trovato le gabole prenderò allora prendo un secondo per quello e lo metterò qua così prendo questo e mi prendo ti fa prendere le no questo mi fa prendere questo si ricarica subito si ricarica si ricarica e poi come seconda azione questa è la mia prima azione seconda azione costruisco un terzo qua costruisco un bianco un po' di varietà un po' di varietà i colori dei power rangers posso facendo in realtà siamo già carenti di dischetti deve cambiare il nickname in disturb ovvio ovvio nome in codice nome in codice allora farò così allora adesso a questo punto quindi con questo qua prendo questo e poi ho finito e questo segue prego hai preso un'altra risorsa eh sì con questo qua poi adesso devo capire anche cosa farcene di farmi detto queste risorse ma ci arriviamo ci arriviamo a una certa ti chiederai ma le risorse dove sono allora lì invece che cosa posso fare? schifo naturalmente però va bene allora la prima azione banalmente è due punti in realtà iniziamo da 10 quindi c'è il busto perché ci sono delle azioni tipo lì che ti fanno perdere punti quindi questa è la cosa mi fa recuperare anche due dischetti che schifo non fa poi vado a pagare due due blu il blu un blu con una cassa l'altro blu con l'oro e vado a mettermi una casetta che prendo da qui su uno spazio del porto vediamo un pochino altri dischetti altre risorse che non ci sono io mi prenderei un'altra cassa andiamo un po' a variegare la situazione mi prendo questa dai e vado così ah giusto devo prendere devo prendere un dado prenderò il 3 oppure prenderò il 2 prendo prendo il 2 e sposto l'architetto nella 2 poi alla fine seguono bomb bene se abusiamo di una regione vedi che si si triggera io adesso cerco di sentire intanto cerco di sentire così capisco allora io cosa voglio fare io potrei in realtà usare 1 e 2 risorse bianche per costruire per costruire quindi ma quello il dado prendi ah si è giusto devo prendere il dado cioè ho pure pensato ma ho dimenticato prendo come dado il 2 no l'1 andiamo all'1 l'1 si prendo come dado l'1 e quindi andrò qua te lo torvieni hai ragione non lo voglio se lo vuoi regalare e a questo punto non uso questo io uso direttamente questo come 2 perché questo qua mi potrebbe tornare utile peraltro quindi uso questi 2 per trasformare questo in una città allora stai operando qui operando qui con questo quindi come prima azione faccio questa che vuol dire che questi 2 tornano a me e tu salverai 2 nel bianco salverai 2 nel bianco poi questi li sostituisci adesso fai l'incastro li sostituisci faccio l'incastro prendi un'idea che ti da un oro che mi da un oro ma spendo subito l'oro per mettere una casetta in un 2 in un 2 che lo spendo devo metterlo del colore del coso giusto? no ma metti un dischetto non la casetta ah no le casette sono qua altrimenti questa o l'hai messa? no l'ho messa prima mi sono distratto perché mi sono preso male con l'audio quindi in realtà io ho un amico designer che praticamente ha fatto playtest di questo gioco molte molte partite diciamo che conosce bene gli autori c'è anche collaborato eccetera e mi faceva notare che alcune cose per esempio sulla versione dell'autore differiscono dalla versione finale qua per esempio lo scoring che si svolge qua il colore è anche determinante mentre qua è stato semplificato per righe e colonne mi ha fatto notare anche che questo in realtà in origine doveva essere tipo una fontana quindi non è un giardino dal quale si può far partire l'acqua ci sono queste cose vabbè sappiamo che gli editori ogni tanto mettono lo zampino allora come secondazione come secondazione metterò un bel progettino un bel progettino caccia devo poter metterlo lo metterò eh no lo metto per portare di questo colore qua in mezzo c'è un bonus di sotto sì c'è il bonus quindi mi riprendo uno di questi e intanto quello che avevo già lo metto qua fatto per così non vado negativo eh perché i dischetti a una certa stringono a una certa stringono e ho fatto entrambe le azioni quindi ti permetto di andare grazie che mi permetti stringono allora intanto da qua mi prendo un 5 quindi facciamo questo valso così vediamo lì metter progetti potrei costruire qualcosina potrei costruire qualcosina assolutamente no perché servono due arancioni due gialli perfetto inizio subito a fare delle schifezze immonde una cosa che potrei fare però è estendere un progetto quindi per esempio posso prendere un giallo tendere questo qua che mi fa ricaricare una cassa quindi questa potrebbe essere la prima azione in realtà questo buono questo ti fa muovere il tuo assistente dove vuoi quindi in realtà vuole andare a parare da queste parti e mi fa prendere un dadino in questo caso prenderei un bianco però andrei invece qua ok va bene c'è Vincenzo che ci saluta dice che è la prima volta che riesce a beccarci dal vivo e di sicuro presto arriveranno i giochi di la selda forse on mars ad aprile ci sarà on mars on mars sarebbe interessante on mars interessante lo sto preparando lo faremo presto si faremo un agile lisboa anche un agile lisboa tanto è semplice pesca una carta scassa una carta vola tocca a me questo quello segue tocca a me io cosa voglio fare dunque io di sicuro quello che vorrei fare è recuperare un po' di dischetti che però poi di dischetti per esempio questo due dischetti in un colpo lo so infatti però 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 facciamo così prendo il 6 con il 6 deciderò di andare nel 2 sì perché non c'è il 2 fra quei dadi lì esatto non c'è il 2 quindi posso andare qua senza problemi e a questo punto mi metterò un bianco qua così metto questo ma lì c'è il bonus che mi riprendo questo e come seconda azione come seconda azione farò questa perdo due punti per salire nel bianco di 1 vai in realtà è interessante quando questa e questa sono nello stesso spazio quello è molto bello quando c'è quella combinazione è interessante allora da qua prenderei il 5 prenderei il 2 potrei anche andare grande vincenzo allora prendo risorsa 5 e vado nel 5 da lì vorrei oppure aggiungere un marrone e poi costruire quindi disdicevole perché lì non c'è alcun bonus però vabbè quindi prendo progetto marrone che estende questo e metto giù un dischetto dopodichè seconda azione costruisco quindi vado a pagare due risorse bianche della regione più porca di quella miseria stichezza di nuovo meraviglioso scherzavo è veramente una roba disdicevole non ce la posso fare perché non ho nessuna risorsa marrone è dura la cosa però potrei fare questa cosa invece di buttare giù costruisco direttamente quello senza estendere così pago semplicemente due bianchi e così non ho problemi quindi io saliro di uno nel marrone saliro di uno questo si restituisce io metto giù una casettina maroon la prendo da qui che mi dà un oretto ok adesso pagando pagando l'oro andrei su un edificio di valore 1 che potrebbe essere questo che è interessante con una risorsa sblocchi due casse non è male e poi questo in realtà ha fatto un'azione sola con una costruito e ha preso il bonus lì e la seconda no non è fatta la seconda non l'ho fatta potrei mettere questo non è giusto si potrei mettere un progetto che potrebbe essere un altro giallo adesso non ci sono progetti gialli in giro da seguire per andare qua diventa poi di grandezza 1 qua sarà di grandezza 1 per forza invece se lo vado più grande è qua il giallo se lo vado col bianco potrebbe essere questa ok vado così e mi prendo un oro boh perché chiaramente da qui il giallo non si può estendere in qua perché entrerebbe in contatto con l'altro giallo ma anche se lo metti in questi due spazi e anche il bianco adesso si potrà espondere solo in alto e non in questo spazio ok va bene tocca a me allora caro amico cosa vuoi fare? non lo so intanto sono rimasto sorpreso perché io avevo in mente altri piani ma il buon ario mi ha sbloccato tutto quindi grazie ario subito approfitto della sita io costruisco metto questo qua e salgo di 1 da qualche parte salirò di 1 nei bianchi ti raggiungo prima avevi il dubbio se utilizzare le casse o le risorse ma lo spesso forse conviene le casse perché le ricarichi qui e quello infatti era indeciso era solo perché visto che questo lo stiamo sfinendo molto in fretta se rimanevo con del bianco inutilizzato lo perdevo eh la questione è quella e con la seconda ricostruisco metto qui però guadagno mi riprendo due dischetti e dai hai preso un dato da qui no perché sono volevo prendere il 4 così vado qua bravo questa cosa non arriva immediata allora adesso siamo lì di nuovo siamo tutti assieme appassionatamente siamo appassionatamente quindi da qui ritorniamo ritorniamo al 3 però anche anche quello è interessante facciamo facciamo che prenda un 2 quindi rimuoverò qui da lì adesso l'oro ovviamente è sempre sempre carente è una cosa indicibile ma questo non è è giusto facciamo facciamo questi questi casini ok due risorse blu di cui spenderò una cassa e un dado blu ok per mettere una casetta facciamo un'altra casettina vorrei una cassa una cassa arancione potrebbe essere interessante così qui ho fatto la prima azione quella l'oro non ce l'ho potrei fare la stessa cosa due volte con un blu e un oro per esempio però piuttosto mi faccio i due punti e i due dischetti e poi sposto questo qui e via adesso tocca a me io qui cosa faccio intanto prendo un dado a scelta o un tre o il tre o il tre ho deciso credo che renderò il tre ciao Elisa ah è arrivata la conoscenza CO2 cooperativo anche quello ci può stare CO2 cooperativo è per perdere vediamo vediamo se riusciamo per perdere la velocità da urlo è che CO2 per esempio l'ho sempre preferito cooperativo aspetto ad un'altra versione allora io farò ho due cosmetterò anche una casetta perché mi sento un po' un po' sì un po' un senza tetto da queste parti senza tetto con tutte queste casette io con cosa mi può servire facciamo che prenderò questo una bella cassa che non si disdegna mai urla dopodichè seconda cosa forse farò anch'io quei due punti e due dischetti guarda che i dischetti poi ha una certa che dice ah non c'è i dischetti infatti farò due punti e due dischettini ok e quindi sposti questo qua e lì si sta per triggerare benissimo si triggererà adesso con me adesso prendo un due o prendo un due ah ok prenderei un due e rimane lì perché è già nel due allora perfetto lì si possono costruire delle robe interessanti c'è per esempio uh guarda c'è un c'è un interessantissimo edificio bianco da tre molto carino quello che pagherei soltanto due risorse di questa regione ma siccome lui ha reclamato questo quelle non le pago ti do un bel boost mi dai un bel boost però io sono felice però nell'intanto questi li prendi sereno ok salirai di tre nel bianco quindi qua uno due tre e prendi un dischetto ti blocchi un altro dischetto grazie mille sei stato molto gentile allora seguiamo il percorso senza fare casino perché tu sei l'uomo degli incastri perché da questa angolazione faccio allora incastro guarda come incastro guarda lì come incastra lui non ce n'è allora edificio è bianco quindi da qui che mi sblocca un dischetto vado a mettere questo qua e quindi il mio edificetto lì c'è seconda azione arancioni ah tra l'altro facciamolo già che ci siamo ho costruito un edificio pago un oro e vado a mettere un dischetto su una nave da tren che prima poi ci dimentichiamo questa era quando piazzo un dischetto su una nave non so se da subito appena la metto eh questo me lo stavo chiedendo anch'io eh questa è una roba da fuck vediamo un po' se c'è scritto qualcosa sicuramente è lì la metto avanza sul tracciato al colore della nave ogni qualvolta piazza un semi di mia proprietà non so se è valido subito secondo me dal successivo a questo punto se no magari ci sarebbe scritto a partire da questo facciamo dal successivo ok e metto una cosa da tre allora la seconda azione potrebbe essere semplicemente prendere oppure no la qua non c'è potrei spendere i verdi non ne ho piuttosto già che ci sono potrei prendere il progetto marrone e stendere questo quindi vado a mettere il mio pippolo e mi prendo due pippoli due pippoli al pezzo di uno non male e voilà lui è rimasto lì ok bene e quindi è finito si adesso tocca a me allora io prendo questo perché sono accusato a prendere questo che è l'ultimo questo mi si sposterà qui questo lo scoring che viene alla fine del mio finisce il tuo turno finisce il mio turno quindi questo è importante perché io a questo punto bombi lo scoring devo cercare di bombare lo scoring in qualche modo ok mettiamo un giallo qua e mi prendo un oro ma è per questo spazio ah quello te lo prenderai dopo eh no non quello quello lo prendo dopo scusa prendo un oro perché lo metto qua lo copro con la seconda azione pago due bianchi più un giallo quindi uno due bianchi perché è quello della regione più questo è giallo quindi pago un altro giallo per costruire quindi costruisco un giallino qua un giallino così? si lo prendi da lì lo prendo da qui ti da un dischetto mi da un dischetto allora mi riprendo il dischetto siccome pago un oro per mettere un dischetto su una nave da uno assolutamente ti seguo con questa anche perché mi va a e poi lì è un bel tris non è male non è male e ho fatto entrambe le mie azioni dopo di che c'è lo scoring c'è lo scoring in realtà purtroppo non è stata la cosa migliore da fare prima ho pensato che lo tu salire almeno di uno nel bianco nel giallo ma non l'ho fatto e questo mi disdicevole disdicevole ora mi peserà però vabbè facciamo lo scoring di questo ti prendi l'oro mi prendo l'oro io devo restituire un bianco siccome abbiamo svuotato nave bianca e salirò di uno nel tracciato bianco poi ritireremo quello adesso qua io ho semplicemente per questo grandezza 1 moltiplicato per 2 fai 2 punti per questo sono ben a 0 meraviglioso ho fatto la bellezza di 2 punti ho fatto la bellezza di 2 punti io faccio 1 2 3 per 2 6 e quindi ti raggiungo guarda guarda che tiro che ho fatto i gialli invece sono perché i gialli sono a 0 quindi non serve niente allora lì abbiamo dei 6 2 5 cioè 3 5 però 2 6 che ti danno comunque vai dove ti pare inizieremo fino ad andare un po' un po' negli zigwa perché è da un bel po' che è seguito lì che è seguito che è seguito